Giornata cruciale per l'avvertenza ITR. Da una parte centinaia di oramai ex lavoratori dell'azienda si stanno affollando presso l'ufficio del lavoro per iscriversi nelle liste di mobilità. Dall'altra il Tribunale di Sernia, dopo essersi riunito per decidere sulla richiesta di dissequestro dei capi Ferré, si è riservato di sentenziare sull'istanza presentata dagli avvocati Mariano Principe e Francesco del Basso, che auspicano una rapida decisione dei giudici, vitale per i sorti della Oti, che ha bisogno di vendere il magazzino per far decollare la New Company. Avvocato del Basso, allora quali sono le ragioni del ricorso dell'ITR? Diciamo che il sequestro a nostro parere non era ben motivato, nel senso che c'è stato prima ancora un acquisto di tutto il materiale da parte dell'Albisetti con tanto di contratto nei confronti dei commissari. Successivamente poi c'è stata un'autorizzazione del Tribunale al ritiro dalla merce per poter così gestire meglio il concordato. Quindi noi riteniamo assolutamente che quei beni presenti nei locali dell'ITR siano conformi e alla transazione e al contratto di acquisto iniziale. Quindi non ci sono capi contraffatti né tantomeno capi che esulano dalla licenza. Quindi è tutto in perfetta regola e non comprendiamo come lo stesso sottoscrittore della transazione e poi faccia una denuncia in tal senso. E preannunciamo già azioni legali nei confronti del sottoscrittore appunto dall'Avvocato Virardi che agisce per conto dell'ITC Italia. Oltretutto sono capi su cui sono state pagate le royalties Avvocato del Basso? In ragione di 5 milioni e 800 mila euro. Oltre che la parcella anche di questo Avvocato risulterebbe pagata. Per cui non riusciamo davvero a capire, l'abbiamo spiegato ai giudici che avevano preso contezza di tutto il materiale che abbiamo depositato. Diciamo per quanto molto voluminoso il fascicolo l'avevano studiato tutto. Abbiamo capito questo.